Grazie a tutti. La scelta politica, quando i vaccini sono resi responsabili, li ha voluti offrire alla libera scelta dei cittadini. Non ho mai voluto che fossero imposti e fossero obbligatori. Libertà barra responsabilità. È stata questa l'impostazione per cui mi sono battuto. C'è stato poi un passaggio parlamentare in cui questa decisione poi è stata convalidata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.